ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video oggi siamo qui per pullare il rwanmei e qualcuno blade in questo video vedete racchiuse le mie pull e probabilmente ci sarà un secondo video forse con quelle degli altri sono state tante pull e ci sono state tantissime mescolate ma nel caso vedrete a fine di questo video o in un altro ad ogni modo io sono qua però lei 50 e 50 da vincere sono a metà pt sia nel banner suo che nel banner della sua lighton nel caso in cui dovessi vincere lei subito o trovarla comunque velocemente ci faccio un pensiero visto che mi mancherebbero anche lì due tre multine e niente ovviamente si spera di fare tingui un e sei che ce l'ho e quattro di trovare la tizia nuova e poi vabbè mi manca ania non l'ho trovata quindi se per caso esce ania sono contenta niente vi auguro buona visione e ci vediamo nei prossimi video pt 50 si va a pt 60 e preghiamo di vincerlo se no vabbè pazienza però insomma vorrei vincerlo mi piacerebbe sarei più contenta mettiamola così o se lo perdo trovarla subito dopo allora vediamo un po intanto chi abbiamo di quattro stelle quattro stelle forse è l'ultimo della multi perché stavo facendo le singole vedere se mi usciva un'ania non mi ha assolutamente uscita ho fatto fraschium e 87 vediamo molto bene iniziamo con la multi con i light con quelle le mie preferite insomma molto bene andiamo a 70 ok quattro stelle dai ti prego un 4 da ora ce n'è uno del banner garantito ci sono due possibilità che voglio una che non voglio facciamo per conto una che mi va bene una che non mi va bene due che mi vanno bene o succederà sicuramente quella che non voglio allora vediamo 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 meno male meno male meno male grazie grazie a differenza di ania dammi la manino vedo mi sta tenendo la manina meno male a differenza di ania almeno lei è stata leggermente più gentile più magnanima grazie molto bene tinghioni insieme come le multe di tutti gli altri prima di me è possibile o no ti permettere eh vatti ti permettere ti permettere molto bene giustamente scusate ok quattro singole allora 71 liscia yes 72 liscia 73 ok e ultima 74 forse qui c'è il 4 stelle no perfetto allora preghiamo 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 non so che dire preghiamo e basta dai muzzi del 5 stelle c'è è già qualcosa almeno non si va all'84 dai per favore vediamo povero pom pom allora io e l'eliana fantastiche ok 75 76 77 78 79 80 81 si meno male grazie grazie divinità grazie 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 ovunque voi siate grazie meno male meno male meno male si va 41 ok puoi uscire anche qua Tingyun sei uscita a tutti a tutti sei uscita è uscita a me ovviamente esce il planeta dell'Andewoo va bene dai adesso un altro personaggio per favore è elettro ma non è thank you serve al chi cazzo ti vuole ma chi ti vuole a te va bene va bene 51 sta scessa no scherzo è bellissima Serval è bellissima però però non era lei nei nostri reconditi sogni va bene adesso abbiamo sicuramente un'arma garantita vediamo dove sta a fine multi perché uscita Serval a metà ok 61 certo early oh si non dico nulla ok ti prego ti prego arma giusta ti prego arma giusta ti prego ok 52 53 oh però la volevo sono un po' una sfigata però questa la volevo va bene va bene questa la volevo te no te no però quella la volevo ho detto di là l'occhio è venuta qui va bene ok 58 va bene c'ho qualche altra multi 8 18 vediamo oh magari è uscito in ghiune eh esatto adesso la posso dare a march esatto adesso la posso dare a march così vediamo vabbè c'è questo robo l'hanno trovato tutti l'hanno trovato tutti quel coso l'hanno trovato tutti devo trovarla anche io ok va bene e poi andiamo a con questa siamo andati a 18 28 ora è in ghiune una meno 5 così in permanente un brivido ok bene inizio multi andiamo no il planetari va bene va bene allora siamo a 68 con questa multa andiamo a 78 quindi probabilmente potrebbe essere già qui esatto è già qua è già qua potreste uscire anche te in ghiune qua eh io lo dico io lo dico potreste uscire anche in ghiune qua ma va bene tutto nel permanente non si butta via niente fa anche rima nel permanente non si butta via niente ah 69 70 71 72 ecco te no 73 però sono tutte pull 73 74 75 l'arma di bairu che avevo già vabbè 76 77 e 78 questa buona questa buona perché al mio povero luosha eh ho dato quella se non altro perché non ho farmato per la sua quindi magari non so quanti refine ho ecco questo è il mio primo perfect timing refine incredibile ragazzi allora dai vi tiro l'ultima multi qua poi se decido di usare gli altri stagritte vedo poi però ho visto che ho praticamente quasi un piti una multina in più ve la tiro qua andiamo a 47 insieme poi tiro le prossime in queste settimane eccola qua non c'era bisogno eccola ok allora posso va bene bastava dirlo bastava dirlo tranquilla vai tiro la multi poi me ne vado ok ok eccola era 37 39 39 scusa no che bene però così raga vi giuro ok a 31 ancora prima molto bene ok allora l'abbiamo presa allora non devo usare altre risorse qui allora ragazzi devo provare a tirare scusa se ho fatto lo stesso ciò dobbiamo provare ragazzi a tirare un'altra multina a questo punto qua la tiro perché dobbiamo vedere se mi esce una Tingyun raga non ho trovato nemmeno una è vero ho fatto tre multi qua però calato ora il dottore mi sembra impossibile ti prego Tingyun cioè io sono disperata uso le mie risorse per te Tingyun vienimi a casa cioè ma poi non sei nemmeno il quattro stelle nuovo ci sei dal primo giorno che già è uscito il gioco c'è da quasi dieci mesi e io sono ancora qui a piangere perché non ho copie tue dove sei? a fine multi perché mi è uscita Shrey a PT1 quindi due insomma quindi a fine multi Tingyun dove sei? a fine